Mattia e Giulia quindi sono Mattia e Giulia Giampiero vieni qui, vieni te così presenti te faremo l'artista di Argelli in cinque parti Giorgio Regazzini al clarinetto e questo è Giampiero Cicognano Sì, bravo te Siluano, dai una grande orchestra, un applauso alla grande orchestra per favore, grazie, grazie grazie, l'artista in cinque parti ricordando del volto Argelli, adesso il maestro Regazzini Sì, grazie, grazie Sì, grazie Sì, grazie Sì, grazie Una coppia emergente del gruppo Girelande, ricordando il maestro del volto Argelli L'artista Sì, grazie Sì, grazie Grazie Sì, grazie Sì, grazie Sì, grazie Alla via Giulia e Mattia Bellini e Pezzi grazie signori troppo gentili Grazie